ragazze buongiorno allora oggi facciamo ho preso io la crema sempre per gli occhi ricordate che l'altra volta pubblicato un video che ho chiamato pillole perché sono video brevissimi per il contorno occhi e vi ho insegnato un movimento adesso le facciamo un altro allora stendete la vostra crema e poi fate dei movimenti che sono combinati perché dovete fare uno e due con questa stendete e con questa salite con questa stendete e con questa salite quindi sempre almeno venti secondi vedete come sono i movimenti combinati 1 e 2 questo stende questo sale questo stende questo sale ok io ve lo faccio vedere solo da quest'occhio un altro movimento fatelo questo per almeno 20 secondi 1 e 2 1 e 2 un altro movimento invece questo che farete dopo quello la allora 1 stendete salite e vi fermate qua fate dei dei semicerchi quindi 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 perfetto ragazzi allora fatelo sempre la mattina la sera naturalmente con la pelle detersa per chi non avesse visto e l'altra pillola appunto che parla di questi massaggi i massaggi erano questi vi faccio vedere e questo massaggio che vi sto facendo vedere serve proprio per allargare lo sguardo e alzare le sopracciglia allora era questo qua per chi non l'avesse visto sono questi piccoli passetti che partono da qui dove ci sono le zampe di gallina e poi proseguono verso il centro dell'occhio e servono appunto ad alzare il sopracciglio e ad aprire lo sguardo allora ci vediamo presto per un'altra pillola